buongiorno oggi voglio parlarvi di un arredo che a me piace particolarmente è raro trovarlo ma quando lo troviamo è fondamentale sdrammatizzarlo parliamo di tavoli antichi io li amo particolarmente la mia mamma ne possiede uno e devo dire che fa sempre la sua figura ma per valorizzarlo è fondamentale sdrammatizzarlo come vediamolo insieme come vi ho sempre detto i contrasti servono a rafforzare quindi cosa di meglio di una sedia contemporanea per un tavolo antico vediamo insieme come subito cambia l'effetto inserendo la sedia giusta partiamo dalla serie golf di carter io la trovo perfetta per leggerezza sinuosità e forme ha questo stile che strizza l'occhio all'antico ma utilizzando la plastica trasparente la rende super contemporanea passiamo alla pantom di vitra icona del design ideata nel 1960 ma sempre attuale è perfetta per contestare i tavoli antichi ma se e solo se abbiamo degli spazi molto alti la berthoia n è un'altra sedia che secondo me contrasta molto bene con il tavolo antico è perfetta nella sua leggerezza di maglia metallica e rende quel contrasto antico contemporaneo che rafforza senza se e senza ma il tavolo antico allora cosa ve ne pare voi inserireste mai una sedia così contemporanea ad un tavolo antico? io li trovo perfetti mi raccomando giocate con i contrasti e fatemi sapere qual è il risultato se invece avete bisogno di sapere qual è la sedia giusta per il vostro tavolo ecco la mia mail scrivetemi e sarò pronta ad aiutarvi ciao 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 ciao